L'ultimo intervento poi diamo la possibilità di rispondere. È un onore fare l'ultimo, no? Certo. O sempre l'ultimo. Allora, buonasera a tutti. Sono uno dei medici del 118 insieme alla dottoressa Quilini che operano in quest'area. In realtà il 118 è pronto soccorso. Quindi, essendo anche i referenti sindacali dei medici dell'emergenza, sentivamo la necessità di fare qualche intervento, qualche osservazione. Abbiamo sentito delle relazioni interessanti su molti punti. Però è necessario anche il nostro apporto. Perché ho sentito qualcuno che dice che i medici non vogliono più venire in montagna, non troviamo i dottori, eccetera. Io la dottoressa siamo venuti a lavorare in Appennino dal 2011. Avevamo tantissime altre opzioni in Italia e all'estero con stipendi ben diversi da quelli italiani. Quindi non è questo il tema. Il problema dei medici e dell'Appennino, così come di tutte le altre zone ormai del Servizio Sanitario Nazionale, è un problema organizzativo. Le condizioni di lavoro sono spesso insostenibili sul lungo termine. Allora, noi siamo stati un po' alla riserva indiana, Donini forse, con cui abbiamo una condivisione di obiettivi, ma anche delle vie diverse per arrivarci. Donini sta cercando giustamente di porre rimedio a un problema che non è solo di adesso, è un problema che lui eredita dal 2000. Io leggo delibere di giunta regionale che dicono lo stesso problema di reclutamento dei medici d'emergenza dal 2000. Allora, è ovvio che lui dobbiamo litigare, noi sono sindacalista, lui è l'assessore, quindi dobbiamo anche litigare. Però il problema è che la soluzione bisogna che poi la troviamo. Qua ho sentito anche il CGL, giustamente, dirci che dobbiamo avere il coinvolgimento degli operatori, eccetera. Purtroppo, nei piani organizzativi delle aziende c'è un estremo distacco tra il middle management, vedisi i primari direttori di dipartimento e gli operatori. Ormai ci sono delle distanze che in alcuni casi sono talmente agli antipodi che mettono in difficoltà l'organizzazione dei servizi. Allora, noi abbiamo fatto la riserva indiana, se la vogliamo dire. Siamo rimasti come 118 e ormai in questi 11 anni ci siamo trovati qui, dice Nicola che è uno dei nostri infermieri, che lavora in automedica con noi da anni, ci siamo trovati, credo 6-7 anni fa, in un'altra sala del comune di Vergato a sentirci dire dall'amministrazione che le automediche erano improduttive, oggi invece diciamo che sono essenziali e che non vanno chiuse. Non ci siamo sentiti dire queste cose, proprio c'eravamo di presente. Il problema è che manca una visione complessiva per sistemare questo problema. Noi ci abbiamo provato e quando siamo arrivati a lavorare in Appennino, nella postazione qui di Marano, venivano colleghi, dalla Sardegna, che prendevano l'aereo, atterravano al Marconi, facevano 48 ore di turno di fila, perché non si trovava il personale. Erano 15 anni fa, il personale c'era, perché non c'era la carenza medici che c'è oggi e quella era la situazione organizzativa dell'epoca. Poi in tutti questi anni noi abbiamo un po' l'orgoglio di dire che in questo momento nell'azienda USL di Bologna siamo arrivati ad avere carenza 11-118-0. Siamo passati a riempire l'organico questo mese, abbiamo gli ultimi che si stanno inserendo con 48 posizioni che hanno messo in sicurezza il sistema 118, la parte medicalizzata, e che già vanno a scavalco sulle attività di pronto soccorso per in questo momento circa 120 ore settimanali. La dottoressa è sempre a porretta a fare i tour di guardia. Quindi è stato un processo però che ci è sembrato di fare come un percorso di guerra con l'ascia sulla spalla e il coltello tra i denti. Allora quasi fossimo noi a dover cercare di tenere aperta la baracca in un continuo stato di conflitto dove un giorno ti chiudo, domani ti apro, domani ti chiudo, cioè senza una visione strutturale a lungo termine. Ora la questione CAU, che è una questione sulla quale anche siamo stati coinvolti ovviamente nei tavoli regionali e dalla quale a un certo punto abbiamo detto no, non ci sono ancora i minimi per arrivare a sottoscrivere quell'intesa che è stata invece sottoscritta con un altro sindacato, è una questione che è complessa e strutturale e ha un suo fondo di logica. Cioè io non dico, la logica che ha l'assessore di dividere i flussi è una logica che non è del tutto errata, ma che richiede una complessità e una tempistica e uno sviluppo che noi vediamo leggermente diversa. che però si può in qualche modo arrivare a fare. I flussi dei bianchi e dei verdi, che noi oggi abbiamo sentito qui di Vergato, prima guardavo proprio usando l'intelligenza artificiale, chiedevo i dati a Google e dicevo dammi i dati dei pronto soccorsi. Guardavo Europa, Stati Uniti, eccetera, hanno tutti circa il 90%, 85%, 75%, dipende un po' dal paese di bianchi e verdi che arrivano nelle strutture di pronto soccorso. Quindi non è un problema che ha Vergato, non è un problema che ha Porretta, ce l'hanno tutti gli ospedali, ma la cosa che da noi è diversa in Italia è che i medici scappano da tutti gli ospedali, non da Vergato, scappano dal Sant'Orso. Abbiamo avuto un picco di dimissioni enormi dal Sant'Orso. E questo per due motivi. Per l'assenza di prospettive di carriera, che è uno dei grossi problemi, le retribuzioni sono il secondo problema. Il terzo problema è che abbiamo delle norme, scusate se lo dico, che sono vecchie di 20 anni, che purtroppo i governi precedenti non hanno inteso modificare, nonostante le ripetute richieste, nemmeno questo, questo ha allentato una mezza virgola, ma ancora niente di significativo, che impediscono a molti dei medici che si sono licenziati, che magari volevano rimanere se si trovavano le condizioni di lavoro, gli impediscono di lavorare perché sono incompatibili. E su questa cosa ci siamo confrontati molte volte. Noi abbiamo delle incompatibilità, per cui se un medico sta studiando una seconda specializzazione gli viene vietato di lavorare, pena l'espulsione dal percorso di formazione. Allora, solo in Italia una demenzialità di questo tipo non è stata corretta dal 99. Quindi noi diciamo che non abbiamo i dottori, in realtà che cosa è successo? Ve lo dico chiaramente perché bisogna che i cittadini a un certo punto lo sappiano. Speranza durante il Covid ha aperto ovviamente tutti i posti di specialità, 17.000, e qual era l'unica differenza rispetto alle delibere del 2000 in cui si diceva non trovo i dottori di emergenza? Che tutti quelli che lavoravano senza la specializzazione sono andati a fare la specializzazione e sono diventati dalla sera alla mattina incompatibili. E quindi tranne le deroghe Covid che sono intervenute durante il Covid, l'ultima deroga che c'è scade il 31-12 che sarà l'ennesimo capestro. Se non viene prorogata l'ennesima deroga o se non viene cambiata la normativa. Ora, i dottori in numero assoluto ci sarebbero pure se si costruiscono dei modelli organizzativi come quello che abbiamo trovato noi. Cioè noi abbiamo dottori che vanno da Budrio a Porretta e che coprono tutto e che hanno il loro orario, chi pieno, chi part time, eccetera, eccetera, con un meccanismo che ne ha fatti arrivare 48 e abbiamo carenza zero. Forse lo possiamo applicare questo modello anche ad altri settori, magari anche integrandolo con l'avvento del CAO, però questi sono processi che richiedono tempo e che richiedono un'attenzione che ad oggi purtroppo ancora sia a livello centrale di governo, sia a livello regionale non si riesce ad avere. Chiudo qui l'intervento.